Dovremmo esserci Ci siamo Partiti in orario record Roba incredibili 19.30 siamo partiti ragazzi Eccoci Mi vedete? Mi sentite? Siamo partiti, siamo online, siamo operativi Grandissimi ragazzi Come va? Come state? Ce l'abbiamo fatta Per una volta è partito Tutto quanto in orario Oh Meno male Allora ragazzi che mi dite di bello? Come state? T'ha posto? Sì sì ci siamo, siamo partiti dai Per fortuna Non ci sono stati problemi, oggi è un miracolo Io bene ragazzi Abbastanza bene Purtroppo starò un po' meno bene dopo essendo che oggi Andremo a fare Una sorta di prova a non spaventarti Però in live Sono un test Va bene Facciamo finita di nulla Speriamo Di non prendere troppi infarti Ecco Cioè Allora Ve la spiego proprio in breve No? Cosa andremo a guardare? Essenzialmente quello che vado solitamente a guardare Quando ci sono le prove a non spaventarti sul canale Quindi dei video In questo caso ce ne sono quattro perché Non li ho trovati Non li ho guardati Li ho presi e li ho buttati lì Quindi Ovviamente non li ho guardati se no non ha senso Ci cagheremo in mano tantissimo ragazzi Proprio tantissimo Poi Vediamo Se alla fine di questi quattro video Non siamo ancora soddisfatti Non abbiamo Una partitina fortnite E via Così Che la buttiamo in mezzo Completamente a caso Tra uno spavento e l'altro Allora Vi piace l'idea? Sì sì dai oggi Ci spariamo proprio quattro horror in bocca Allora Le chat horror No ragazzi Perché? Perché essenzialmente Non ne ho trovate altre Quindi Le facciamo andare per le prossime volte Perché poi Ne cercherò altre E ce la possiamo fare Ne troverò altre tranquilli ragazzi Era solo perché Oggi se no non usciva nulla Perché niente Zero Non c'è più niente in giro Sì effettivamente Fort Fortnet c'entra sempre No vabbè La metto in caso Facciamo in fretta E abbiamo ancora voglia di stare un pochino insieme Ma Non è obbligatorio Eh raga Anche perché ripeto Ci sono quattro video Che diciamo che dall'anteprima Non mi sembrano proprio tranquillissimi Ecco però Non importa dai Nel frattempo abbiamo Un euro Da Non mi dice il nome mai Vedo un sacco di quadratini Cos'è succede? Si è pagatissimo Non vedo Comunque ti ringrazio Quadratino Ti chiamerò così Per il tuo euro Gentilissimo Gentilissima Non lo so Anche perché come foto c'è un cane Ma cosa? Va bene Va bene Alex Samat Che c'è sempre Grandissimo Alex Sono pronto per la Anche io Che c'è più o meno Comunque grazie per i tuoi due euro Alex Gentilissimo come sempre Bene ragazzi Allora Allora Io direi di accingerci Ho paura Non ce la posso fare Perché poi Madonna Non posso neanche censurare nulla Perché siamo in live Urlo come una checca Che appena ha preso un calcio Dove non batte il sole Va bene Cuffie Rosse Perché mi sembra giusto Così Siamo In tema Creepy Madonna che i capelli Sembrano veramente Uno spaventapasse di scemo Quindi Detto questo Gente che insulta Che ci saluta Per sempre Arrivederci Che bello Jessica Sarà stato il male Sarò stato il bene Sarò stato 1 euro e 50 Grazie miss Grazie miss Grazie mille Jessica Allora dai Io intanto Provvedo Nel senso Inizio ad aprire il video Non lo vedrete subito Spero Non si senta Troppo forte Fastidioso Adesso lo facciamo partire E poi Nel mentre Mi dite Abbasso il volume Ma che professionalità Delle cuffie Allora Dicevo Se dovesse essere Troppo forte Troppo alto Troppo basso Troppo schifo Troppo Me lo dite E provvediamo subito Nel dubbio Come sempre Bisogna farlo E buon auspicio Capito Perché porta fortuna È la prima volta Che porto tra l'altro Una prova A non aver paura A cagarti in mano Spaventarti In live Sarà stata Una bella idea Non penso Va bene Dai allora Intanto Diventiamo Piccolini Così nel frattempo Vedrete il mare Perché L'ho aperta L'ho messa in pausa E Inizia col mare Che bello Quindi sarà Sicuramente un qualcosa Di bello Vero È certo Orca vacca Però aspettate un secondo Un attimo ragazzi Voglio provvedere Un attimo A sistemare una cosina Perché mi sa No non posso Non posso Perché altrimenti Vedete strano Allora Ripeto Io l'ho scaricato Ma Non so nulla Non ho visto niente Perché se no Non avrebbe avuto senso Quindi Facciamo così E mettiamo Questo scherbo qua Lo cambio Perché magari è più carino Dai Ragazzi siete pronti? Siamo carichi? Io no Sono sincero No però Me lo fa vedere Comunque è strano Quindi a sto punto Facciamo così Guardate che roba Incredibile Ma la tecnologia Va avanti Sono io che rimango indietro Ok Così in teoria Dovrebbe essere tutto a posto Ragazzi Iniziamo E che Dio Ce la mandi bene Buona Ecco Facciamo partire Dai Vai Ok C'è il mare Sentite bene? Sentite troppo forte? Fatemi sapere ragazzi Mi raccomando Perché È un casino Una tizia che sta facendo Una tizia che sta facendo La nanna E il mare Con quelli onde Signorina Io fossi lei Non dormirei là Perché secondo me Potrebbe essere pericoloso Puoi facciare le Ma va bene Così donne Dai Ok Si è svegliata Ce l'ha fatta È in spiaggia? Vediamo ragazzi Dai Troppo alto? Abbassa un pochino Ho messo Non ho visto nulla Abbasso Abbassiamo Sempre Eh si Adesso vedrete un casino Salve Facciamo così Almeno non vedete nulla Sì ho ridotto Non vi preoccupate È solo perché Così almeno posso modificare Allora Io abbasso un po' Così Sarà giusto? Non lo so Eh Ragazzi sapete che Il live è tutto Sempre meraviglioso Dovrebbe essere A posto adesso Io abbasso ancora Un pochino Però non trovo Perché sennò Poi ci sono gli spaventi Voi non vi caccate in mano È soltanto io Eh Ok Adesso dovreste vedere Tutto quanto ho fatto bene Mando leggermente indietro E ricominciamo Ragazzi Ditemi se adesso Ragazzi Se vedete male In realtà è perché Dovete alzare la qualità Io vedo bene È la qualità Dovete alzare Tramite la Rotellina di YouTube Alzate la qualità E ricominciamo Dai Vediamo una Non è una spiaggia Calma Ok Questa posizione Non è del tutto naturale Lo ammetto Che cosa stai Stai soffrendo Vero? Va bene Ragazzi Adesso è troppo basso Raga Non mi date informazioni Sbagliate Che sennò Non ne usciamo più Eh Allora Sennò poi metto Pause E controllo direttamente Dal mio telefono Così almeno evitiamo C'è sta tizia Che E Non è in una bella posizione Secondo me Madonna Dove cavolo Sei finita Che C'è uno che suona Il pifero Sì vabbè Ma che posto è Porca Vaca È tutto buio No vabbè Che brutta roba È terribile Allora Adesso va bene Il volume Perfetto Che calmi Non ho nessuna voglia Di cagarmi in mano pure qua Stai sanguinando Proprio A dei livelli brutti Eh Ok Oh Non è che spuga qua Ok Calmi ragazzi Per il momento C'è una che è tipo In una curva Non ho capito Ed è incastratissima E ogni movimento Potrebbe essere l'ultimo Perché potrebbe cadere Tantissimo Eh Devi fare la nanna qua Devi stare per sempre Diciamo che questo Più che altro È ansiolitico Niente Non ho la sofferenza C'è C'è Come ci sei finita Intanto in questo posto Incredibile Giusto per capire Non si sa Vero Ok Vediamo un attimo Raga Tanto il jumpscare È dietro l'angolo Non vi preoccupate Non ti muovere Ti rendi conto Che sei su una curva È pericolosissima Questa situazione Sappilo Vuole cercare Veramente Di girarsi Cal Via Stai Ficcata Ficcata Amica mia Mi sa che stai per morire Devi stare così Non puoi muoverti Hai capito Ecco Guarda il cielo Ci manca solo Che arriva il temporale Sei fottuta Bene Raga Secondo me Questa qua Sta per saltare In aria Malissimo Proprio Dai tranquilla Che è tutto a posto È una situazione Abbastanza risolvibile Buttando di sotto Perché altro Non vedo Non si sa Come abbia fatto A finire lì Raga Non lo so Sta sanguinando A dei livelli Che di Allora A me non piace Vedere il sangue Io lo dico Sì questa è la tua mano Non guardarla Tipo Che cos'è Questa cosa Strana e misteriosa Che vuoi fare Che fai con quella mano Ragazzi Non sto capendo Ma ti stai palpando Da sola E che Cosa sta succedendo Cosa Non capisco Sì ma la gamba È spezzata Cioè ma guarda che posto Ma dove sei Ragazzi Madonna Sta soffrendo Tantissimo Io avrei già Il ginocchio esploso Vabbè Inutile dirvi Che sarei già caduto Da sette ore Che Non ti muovere Lo capisci che Se non cadi Ok Va bene E non lo so Ragazzi Potrebbe essere un problema Ho dei capelli Veramente Pessimi Ma basta Guardarti le mani La soffia Perché brucia Ciao ragazzi Ciao a tutti Benvenuti In questa prova A non spaventarti E come potete vedere C'è questa qua Che è Tutta Storta Ma Ma guarda il piede Madonna Sto soffrendo Sto prendendo coraggio Forse ragazzi Sta cercando Di risalire Ma non è possibile È troppo ripido Madonna Ok Respira Calma Non serve Correre Tanto Non hai altro da fare E continua a palparsi Nel frattempo Non si sa perché Va bene Ogni tanto soffia Brucia Per il momento Non sta succedendo nulla E non ci sono neanche jumpscare E sono contento Di questo Sarò sincero Sta scivolando C'è tutta una questione Di fisica strana Il piede messo In un determinato modo Ma basta Ah ma sta soltanto asciugando Ho capito Perché il sangue Fa scivolare Che hai visto? No C'era anche un altro Prima Mi sa che quello È cadutissimo Eh vabbè Mi sa che stai per fare La sua stessa fine Non è che adesso appare Vero Sento la musica strana Calma Esatto Respira È tutto a posto Tranquilla Ragazzi Mi sta venendo l'ansia Calma Dai rimettiti A riposare un pochino Ah Mamma mia Basta un attimo Però non è possibile Risalire Cioè è così Dritto a 90 gradi Come fai? Magari la soluzione È buttarsi giù Potrebbe essere anche quello E infatti Vedo tra l'altro Il sangue fresco È appena successo Lo sai che questa È l'unica soluzione Vero? Tuffati Raga Vi giuro Mi sta venendo un'ansia Che non potete capire Ti vuoi? Io Raga Avete sentito? Qualcuno è appena caduto Sì vabbè È crollato per 800 chilometri Ma tra l'altro Quel sangue Prima non c'era Oh sì Non sto capendo Ve lo giuro No io rimarrei fermo Finché la morte Non arriva Perché tanto Aspetta Ma Non è che quello Che sta succedendo a lei Si manifesta Dall'altra parte? Non ho capito Ma do la sguardo Che brutta cosa Chi è? Sento anche Cioè vedete Hai visto? Il sangue Praticamente Appare anche Dall'altra parte Cos'era? Cos'era? Questa piove L'ho detto prima Non ci credo Ho detto adesso Manca solo Che inizia il temporale È andata Amica mia E purtroppo La vita è ingiusta Ma com'è possibile Che sfiga? Eh vabbè Rassegnati Brava Un po' d'acqua No adesso Adesso scivola tantissimo Ma per forza No Madonna Non piangere È tutto a posto No ragazzi È per forza Che urla Oh no Ci sono jumpscare Ci sono spaventi Improvvisi Tipo perché lei scivola Che cosa Stai facendo? Questa è comunque Palesemente La catena del cesso Te la porti dietro Porta fortuna? Non porta molta fortuna Comunque Vuole usare quella Per arrampicarsi meglio Non capisco Che Cosa è successo? Cosa fai? Perché Non ho capito Ma assolutamente C'è l'ultima scena E lei che Si avvolge Una catena E scena Cos'era? Non ho capito Perché è finito così? È morta Tantissimo Perché è l'unica Spiegazione Ma perché è finito così? Cioè fai vedere Che va giù Che si sente il tonfo Le che dice Ma porca vacca Va bene Ma che bello Devo essere sincero Meraviglioso Allora Si deve essere buttata L'ha fatta finita Non se l'è più sentita Daniele Rossi Con un euro Grazie di cuore Daniele Caracca ragazzi Non ci sono stati jumpscare Però Cioè mi sono proprio L'ansia Capito? Allora raga Se si vede male Dovete alzare la qualità Non è qui il problema Alzate la qualità E vedrete che si vedrà Tutto quanto Meravigliosamente Diciamo così Allora Gli altri tre Secondo me Non saranno Senza jumpscare Ve lo dico Quindi forse Senza link E farlo apposta Mi sono tenuto Come primo Quello meno spaventoso Solo ansioso Anziolitico Gli altri Me lo metteranno Vabbè Avete capito Allora Eh raga Non ho capito la fine Boh A quanto pare Come state dicendo voi Si sarà tuffata Perché ha capito Che la soluzione Era solo quella Va bene Allora Ciao Yagami Grandissimo Da Death Note Era il crocifisso Quello legato Aaaaa Quindi tipo Padre nostro Che sei nei cieli Si è santificato Il tuo nome Proteggimi Tu Sei tuffata Abbiamo capito Sei suicidata Ma credo Che l'avremmo Fatto tutti Cioè no Io Avrei aspettato La fine La vecchiaia Stavo lì fermo così 90 anni Vabbè Forse non è fattibile Comunque Grazie mille Per i tuoi due euro La Yagami I nomi Comunque ragazzi Incredibili Ciao Fancy Ti volevo ringraziare Perché ogni volta Che la giornata Non è bella Mi tiri sempre sul morale Riesci sempre a farmi ridere Anche quando mi fanno Quando mi hanno lasciato Grazie di cuore Un bacio grande Sono contento Di riuscire A farti divertire A farti sorridere Un po' Anche nelle giornate buie Che poi è quello L'obiettivo principale Un bacio grande Allora Sì Giulia Gaccia Club Le mie mani stanno Anche le mie Giuro Sì fa un po' schifo Però Mamma mia Eh era un casino Questo raga Non sembrava Ma Eh Eh Ciao Mauro Gagliano Ciao Marika Dall'account Di Giovanna Di Grande Ciao Luca Bruno Ogni tanto Sapete che saluto Qualcuno Adesso ragazzi Abbiamo di fronte A noi altri Tre video Della vita Speriamo bene Che poi sarebbe Figo Cioè riuscire A non spaventarsi Avrei vinto La challenge Per la prima volta Sarebbe record Nel frattempo Ragazzi Io me lo ricordo Sempre Avete lasciato Like Alla live C'è È gratis Il pollicione Azzurro È più bello Di quello grigio Dai che I pollicioni Su ragazzi Dai che Dai Dai che I pollicioni Allora Ciao Visone 78 Ciao Niki Tobi VGF Ciao Patrizia Gallo Ciao Omega Ciao Alessandro Scafi Ragazzi Come sempre Ogni tanto Saluto Non vi preoccupate Dai E coi pollicioni Allora Adesso Avvio L'altro Video Proviamo Con Questo qua Ancora Non vedete nulla Adesso Ve lo apro Madonna Ha detto così È bruttissimo Ve lo apro Non si può sentire Effettivamente E voglio Alzare Leggermente Il volume Delle cuffie Perché così Magari Sento ancora meglio i suoni E mi cago ancora di più in mano Fantastico Sono proprio un masochista Ok Ok Nel frattempo Schermo Così Vedete anche voi Siamo Credo Non lo so Una fermata del Pullman Vedo tipo il ticket Il biglietto Per quindi il treno Magari Non lo so Vediamo Allora Domani verifica di diritto E forse interrogazione di scienzo Ma buona fortuna Andrà bene Dai Eh lo so Purtroppo ragazzi Anche prima delle vacanze Proprio Ammartogliarvi Però È così la scuola Elisa Ma l'uccello Ma tu Come fai a essere così bravo Elisa Tu come fai a essere bugiardo No sto scherzando Ti ringrazio di cuore Ma che ne so E che so scemo Dalla nascita Sarà per quello Allora 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 Ciao I'm Brumbrumcar Che nomi belli Che proprio i nomi belli Dai ragazzi Dai I go positioni Andiamo avanti Partiamo Siete pronti Siete carichi Roba incredibili Bene Ho l'ansia Perché secondo me Questo potrebbe essere un casino Raga Secondo me questo È il caghetta proprio Vediamo Ripeto Non so niente Potrebbe sbucare qualcosa di incredibile All'improvviso Non lo so Non lo so Vediamo Dai Partiamo Salve signori Ah e i treni Stazione del treno Effettivamente c'era Agno Hi Allora cosa avevo appena detto Ma per cui quali suoni mi spavento Dal nulla Vabbè allora io faccio così Va bene Grazie Grazie mille Perché comunque non ho urlato Sono riuscito a mantenere Oh Ma poi tra l'altro Chi Basta applausi Chi sei tu il mimo No Porca Allora Calmi Ce la possiamo fare Calmi Alpe Perché così almeno mi do la carica Ragazzi Come l'altra volta Dai Questa musica è giusta ragazzi Per gli horror Proprio azzeccatissimo Vero Dai ditelo Azzeccata come non mai Ballate con me Dai Ragazzi Così ci diamo la carica Non ci spaventiamo Così Ragazzi Vi vedo già ballare a casa Sì Così Vabbè basta Comunque Quando il gioco Si fa duro No Eh lo penso anche io Ma poi comunque abbiamo anche altri Cioè nel senso Che poi comunque Ma perché ho venduto il cervello Per comprarmi L'elastico Non capisco Cioè Era in offerta Però Il cervello poteva essermi utile Allora intanto Antonietta invidiato Datti una calmata Perché tu non è che vieni qua E dai ordini Eh Eh Vedi di stare calma Allora proseguiamo ragazzi Proseguiamo Si è Hi Che bella che sei Eh Il mimo ragazzi Sta chiamando Che chiami? Com'è possibile? C'hai poteri I'm the junior man Dai rispondi Dai Oh come è possibile sta cosa Allora Ma che bella voce Che ha Catch Mi sa che non si è capito molto By the way Se l'ha lasciata così Effettivamente Che Con un dialogo del genere Non è che puoi stare lì A fissarvi Eh Ok Che fa? Se l'hai presa tantissimo Ragazzi C'è proprio se l'hai presa Sul personale Adesso Ti fa il deretano Green day Bene Vediamo un po' Se se l'hai Porca Calma Non ridere Che ce l'hai accanto Senza motivo Che fa? Il mimo Ti sta imitando Very funny Divertentissimo È inquietante Da morire comunque Ma dove va? Ah Fa le stesse cose Che fa lei Porca vacca Potrebbe essere un problema Che è? Mamma Perché non ti putti Sotto il treno? Sei prima Bene ragazzi Bene così Ha cambiato Panchina E lei però Non si è seduta Dall'altra parte Stai parando eh Chi è? Si mangia una mela Brava Una mela al giorno Toglie il medico di torno Si sa Dov'è finita il mio Come? Non ho far finta di nulla Questa cosa è strana Chiama qualcuno Che Che Cosa? Dice la mano Dati una mossa Muoviti Comanda il tuo corpo No Non ridere Ha preso possesso Ma che cavolo sta succedendo? Ragazzi C'è il mimo Che ha preso Possesso del corpo Aiuto Eh Le ha chiuso la bocca No Non ci ho capito E però aspetta Si Suicida anche lei In teoria no? Se adesso Dovesse camminare Sui binari Appunto Ah no Perché lei sta sul podo L'è fottuta Vedi a rispondere male Al mimo Che succede? No Non piangere Ragazzi È un problema Questo Vero? E mi sa Che ci sta Per salutare Ah La prossima volta Rispondi meglio Va Come ha fatto La mela Ad arrivare Dall'altra parte Non si sa E poi Ha ottenuto Cioè poi Voleva solo la mela In realtà Bastava chiederlo Facevi anche prima Bene Ragazzi Devo dire Che comunque Anche qua Per fortuna Per fortuna Non ci sono stati Spaventi Mi sta andando Fin troppo bene Secondo me C'è qualcosa Che non va Sta per arrivare Quello brutto Ve lo dico Il problema Per fortuna Per fortuna Allora Ciao Ciao Ho sbagliato Ciao Crispo Pietro Non riuscivo Più a trovare il nome Ciao Verchini Vincenza Ciao Frank Frank 1899 Poi Vediamo Un po' Ciao Francesco Mijalovic Spero Di azzeccare Sempre i nomi Perché sapete Che le mie Pronunce Fanno proprio Caccare Ciao Mr. Mystery 6.0 Spero vi piaccia Comunque Perché se dovesse Piacere questa cosa Ragazzi Ma ne facciamo Altre anche Più avanti Ma qual è il problema Where is the problem Where is the problem No non so Cosa ho digerito Che oggi Non ho neanche mangiato Vabbè Allora Ragazzi Ne abbiamo Ancora due Ne abbiamo Ancora due Purtroppo Ripeto Non ce ne sono Altri Quindi Eh Però forse Un bene Perché così Possiamo ritenerci Soddisfatti Però vediamo Dai Eventualmente Posso provare A cercare qualcosa Proprio in live Direttamente Su youtube Così Alla veloce Vediamo un attimo Non è un problema Ragazzi Tranquilli Staremo comunque Insieme Un'oretta e mezza Circa Dai Giusto per stare Un pochino insieme Ragazzi Niente di più State tranquilli Dai Allora Io intanto Vado ad aprire L'altro E Niente Lo apro Vediamo Ragazzi Oh Senza neanche farlo apposta Vuoi vedere che ho preso Tutti e quattro video Che non hanno jumpscare Eh ma è così Con i video Anche quando registro I video sul canale Io non so che cosa sto guardando Quindi Posso anche a volte Registrare A caso Poi non c'è niente Fa schifo Lo putto Non è servito a niente Quindi Eh È così Speriamo bene Dai dai Qualche infartino ci sta Secondo me Potremmo anche Trovarcelo Abbiamo un primo piano Di una tizia Che ha la faccia Spaventatissima Quindi secondo me C'è già qualcosa Che non va Vediamo eh Dai sedili dietro Secondo me Si trova su un pullman Eh ragazzi Si sa che i pullman Sono pericolosi Non è vero Però vabbè Giuro Mi fai venire Voglia di futuro Bella voce eh Mamma mia Fedez Non mi denunciare Allora Allora Eh ma comunque È anche merito Della canzone di prima Per quello Non mi sono spaventato Perché qualche suono C'era Alzo ancora un po' Ragazzi Perché potrebbe essere Anche quello Potrebbe essere Il volume un po' Troppo basso Che non aiuta E che Allora 30 secondi Perché 30 secondi Iniziamo Così nel frattempo Saluto ancora Due o tre persone Ciao Asli 9135 Ciao Simone Concolino Spero di averlo Detto bene Ciao Marica Sei un cantante Sì Mamma mia Fedez Mi ha già mandato La denuncia Lo sto vedendo In questo momento Giuro Mi vai Voglio Il futuro Bella eh Come canto bene Poi sono le parole Soprattutto quello Dai 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 Iniziamo ragazzi Dai Sono carico Mi raccomando Tizia Non fare scherzi Eh Dai ragazzi Vediamo un po' È all'interno Di un pullman O di un treno Della forma Secondo me È più un treno eh O potrebbe essere La metro I don't know I don't know Perché la porta è chiusa Non è un buon segno Sappilo Se dovessi scappare Come fai Eh Io te lo dico Intanto dialoghi sempre in inglese Perché sapete che io sono madrelingua Quindi non è un problema Ok Adesso essendo che io conosco bene la lingua E capisco anche che ci siano persone che non sono molto pratiche con l'inglese Faccio la traduzione Quindi La faccio anche in diretta ragazzi Perché Ripeto Essendro Essendro Allora sono l'italiano Quindi Vabbè lasciamo per Essendo io madrelingua Riesco a farlo proprio Bopopopop Botta e risposta Quindi Ricominciamo Vediamo un po' Eh sì Scusami tanto Ieri Alla fine non sono uscita Perché Ho avuto un attacco di disenteria È stato un casino Ho cagato pure per terra Eh lo so Infatti guarda la sua faccia Perché dice Ma com'è cagato per terra Ma scusa È stato terribile Non avevo neanche l'imodium Non ridere delle disgrazie altrui Ma era dappertutto la cacca Lei ride però Non si fa Non si ride L'altra è disgustatissima Scusami se non sono venuta Ho cagato ovunque Salve Lei che fa Tutti che parlano Adesso faccio anche la stessa cosa con lui Non vi preoccupate Sì Arrivo dopo Non ti preoccupare Devo comprare i sofficini Tranquilla Passo al Conad Va bene Jane Vado Ehi Che vuoi Sì dopo passo C'era una che mi fissava Allora I dialoghi bene o male Sono questi ragazzi Purtroppo E che vi devo dire Sì Che è andato anche lui Al Conad All'altro ieri Non ha trovato La pasta Bene vabbè Può succedere Troppo silenzio a caso Eccolo lì Dove sono finiti Ho visto un tizio bruttissimo C'è proprio una faccia brutta Inquietante Nera Gli occhi neri Brutti Sfaventosi Terribili Ragazzi Quello lì Non me l'ha contato giusta Questo Si avvicinerà E le farà Proprio Vacca Vacca Va bene Va bene Dai Allora Le due tizie E il pelato Sono spariti Quindi probabilmente Il tizio Già ha fatto qualcosa E Gli ha chiesto Gentilmente di uscire Perché deve squartare Sta tizia Però almeno È stato Come si Onesto Perché Eh Bisogna un attimo Adesso io ve lo faccio vedere Un secondo C'è Mi ispira fiducia Quest'uomo Ma come fissa Ma poi perché Hai gli occhi neri Ti hanno preso a pugni Eh Madonna Cioè immaginatevi Entrate sul treno Vuoto completamente Il vagone E c'è soltanto Un tizio lontano Lì in fondo Che vi fissa così A quel punto Si tira fuori Ogni cosa Che hai Nella lancia Nella speranza Di beccarlo E ammazzarlo Bene ragazzi Guarda che bel tizio Proprio ora Assicurante Allora Spera Spera L'avevo letto L'ho perso Ok Ho fatto la cacca L'avevo letto Quanto Ah ok Emanuele Spagnoli Quanto Durerà ancora La live Fai Ancora un'oretta Più o meno Circa dai Più o meno Eh Più o meno Allora ragazzi Ricominciamo C'è il tizio Che ripeto Non mi ispira Fiducia mai Nella vita E non dovrebbe Ispirarlo Ragazzi qua C'è lo Già Io lo sento C'è troppo silenzio Non speciare Mamma mia Ma non è che ogni volta Che togli lo sguardo Lui si avvicina Sempre di più Vero Non è quel tipo Di gioco Guarda Nel dubbio Vai via E qua c'è il Già Ragazzi Sì vabbè Ma non ti ha fatto Nulla Ha fatto Lo scattino Tipo Che vuoi Vuoi schiaffi Vuoi botte Ragazzi Questo Non ha Belle intenzione Io lo Sento Adesso Lei Guarderà E ce l'avrà Tipo davanti Ma come ve lo sto Dicendo Fermi No non me la sento Ho l'ansia Sto morendo dentro Ho il sudore Che mi sta Ammazzando No ragazzi Questo è brutto Questo è brutto Qua c'è il Jumpscare No ragazzi Ha fatto lo scattino Tipo Che vuoi Vuoi problemi Ma ragazzi Ma che vi devo dire Ma cosa Vi devo dire Poi ho alzato Il volume Troppo Nelle orecchie Ce l'ho proprio I suoni Ecco perché Mi cago in mano Con qualsiasi cosa Cioè Adesso se lui Facesse una Scorreggia Mi spaventerei Perché è troppo forte Non lo voglio abbassare Perché così È tutto molto più bello Più o meno Tra l'altro Sta anche per finire Il che vuol dire Che tra pochi secondi Esploto Perché arriverà Il jumpscare E raga Ve lo dico Preparatevi Ecco Prepariamoci Pannolini Ha fatto lo scattino Tranquilla Ma a lei Non gliene frega niente Comunque Come se nulla fosse Ma No La cosa Mi ti senti Com'era Che brutti passi Ho sentito Dei suoni strani No Guarda Allora È sparito No Dov'è Ti prego Non me la sento Sto male Ma Ma Che brutto Che sei Lei comunque Non sta andando via Amica mia Per favore Vai via Ma se tu ci tieni a morire Perché dobbiamo prendere Noi l'infarto Non ho capito Comunque si sta avvicinando Devo dire Dove che sono i pronti Ma come cammina Ragazzi Allora O sta grattando Non capisco Lei ormai si era assegnata Tanto Hai capito Che sta per esplodere Guarda È finito così È finito così È finito così Ragazzi Vi giuro Sto sudando Perché c'è un'ansia Una tensione Pazzesca Perché non sai mai No Se sta per arrivare Se sta per arrivare Il suono forte Se sboccherà All'improvviso Quindi stai sempre In tensione C'ho tutti i muscoli Ma sto facendo ginnastica Allora Qualche colpetto Di infarto In più rispetto agli altri C'è stato Ma ancora Non c'è stato Quello potente Secondo me L'ultimo Sarà quello proprio Tra l'altro Quanti battiti ho Allora Per il momento Sono a 112 Ragazzi Non lo vedrete mai Come cavolo faccio A farmi così Lo vedete 112 Il che vuol dire Che Perché adesso sono 87 Cuore Riprenditi Bene 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 ragazzi Sto per morire Sto per morire L'ultimo Sarà Devastante Secondo me Non lo so Perché me lo sento Sarà allucinante Potentissimo Però ragazzi Dai Possiamo ancora farcela Possiamo farcela Ancora io Posso dire che Sto vincendo la challenge Non ho ancora preso Infarti ragazzi Allora Adesso arriverà il cagotto Eh Me lo sento Me lo sento proprio Nel frattempo Vado ad aprire L'ultimo video Non lo vedrete Per il momento Ma Ok Inizia con lo schermo nero Non è un buon segno Schermo nero A breve Ve lo faccio vedere Non vi preoccupate Saluto ancora qualcuno Allora Ciao Ehm Neko E Risu Spero vi avevlo detto bene Anche se ne dubito Ehm Leonix Ti posso usare come google traduttore Vai tranquillo Con me Non ci sono problemi Se dovessi fare una verifica D'inglese Dillo a me Ti faccio prendere 10 Meno nove Vabbè Vabbè Comunque io l'inglese Avemo un rapporto Veramente meraviglioso Renzi Mi ha dato lezioni E si vede Allora Ciao Puppet Ciao Armando Con l'account di Malak Sama Detto male sicuro Ciao Davide Campani Ehm Tra l'altro Sento Bip 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 Probabilmente Si stanno scaricando pure le cuffie A posto Io quanto sono professionale Dio santo Infatti stanno tipo lampeggiando E vabbè ragazzi Dovrebbero Resistere Per l'ultimo video horror Che è fondamentale E poi le metto a caricare Se mai Vediamo Ciao Dali Ciao Marco Lazzarin Ehm Poi vediamo un po' Ciao Niccolò Arrighetti Dai I pollicioni su ragazzi Ci sta Cioè State mettendo Il like È gratuito Dai ragazzi Dai che mi sto prendendo infarti No ancora no Però sto rischiando l'infarto Dai Ragazzi Ehm E dai I pollicioni Arriviamo Per questa prova Non spaventarti in live Essendo che la prima 10.000 ce la facciamo Non lo so È un po' difficile Però io credo in voi Credo nella vostra potenza Quindi possiamo farcela ragazzi Dai i pollicioni su E dite ai vostri amici Di venire in live Perché così ci divertiamo insieme Che così ci cacchiamo Tutti quanti in compagnia Ehm Che meraviglia no? Bene Ehm Ciao Ehm Testa croce È bellissimo Allora ragazzi Partiamo Con l'ultimo video horror Per questa prova Non spaventarti Eventualmente Posso provare a cercarne anche un'altra Vediamo Magari trovo un video così Da guardare in un attimo Molto veloce E siamo a posto Siamo Cioè capito? No Però non lo so ragazzi Non lo so Non lo so Oggi È così Essendo la prima Non sapevo neanche bene Come gestire le cose Nelle prossime volte Facciamo anche meglio Non vi preoccupate Dai! Allora ragazzi Intanto Apriamo Schermo nero Ripeto Inizia così Però Potrebbe essere La volta in cui perdo Potrebbe essere Quella che mi fa perdere Ragazzi Doveva succedere Prima o poi Siamo pronti? Siamo carichi? No! Però Io alzo ancora un po' Perché raga Essendo l'ultima Sono masochista Voglio vedere Come esplodo male Che vi devo dire Voglio provare Ho alzato ancora Bene ragazzi Dai! Iniziamo Facciamola partire Vediamo un po' ragazzi Vediamo un po' Vai! Beh ecco Semoforo Già sento suoni Che non vi piacciono E siamo in macchina E bene Non ho una bene La sensazione Ragazzi ve lo dico Questo potrebbe essere Un problema Che? Oh my god Ok Un rapimento In corso Madonna che protocollo Allora Intanto I'm going I'm going Vai! Ma chiama la polizia Fai qualcosa La sta seguendo No! Ragazzi Non è un'ottima idea Secondo me Ma chiama la polizia Dai la targa Almeno È già notte Cosa? Che l'ha seguita Per tutto il giorno Si è ferma Non è andare a controllare Chiama la polizia No 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 È andato l'iPhone Ragazzi Non può chiamare la polizia Bene è così Ok You gotta go You gotta go Certo vai Dai fatti forza Tanto voglio dire Ok Ok Ho preso Ho preso coraggio Io non ne ho moltissimo di coraggio Però Devo essere sincero Che se Ma cos'è il piede di porco? Vuole sfondare tutto? Però comunque Non è che l'hai vista dentro Vuol dire che è ancora dentro E magari l'ha portata Vabbè Comunque Non lo so Vediamo ragazzi La musica sale Adesso spunga qualcuno Tipo Cosa vuoi scusa? C'è nessuno? Cosa fa? Bussa Ah no Non sta bussando Non si apre Ovviamente è chiusa C'è qualcuno dentro? Ragazzi ci sono dei suoni terribili No 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 Guarda Dalla porta del guidatore Ci sarà qualcuno Ragazzi Sto spug Bacca Bacca C'è una tigre dentro Non capisco Cosa è successo? Ok Ci sono un po' di ragnatelle Come? Scusa Stava guidando fino a prima Sapevo che sarebbe dovuto succedere Prima Eh ragazzi Sapevo Mi ha spaventato La porta che si è aperta Lo sportellò Io non ho parole Ho la resistenza veramente Di un coniglietto appena nato Porca vacca L'infarto è arrivato Io lo sapevo che doveva arrivare 113 di nuovo C'è il cuore che fa 112 50 80 120 Ma se non crepo io Chi crepa? Eh vabbè Ragazzi Avevamo già intuito Che comunque l'ultima Poteva essere un casino Eh Quindi Potrebbe esserci un ragno gigante Che guida Che immagine brutta Un ragno fiero Con l'ottentr Eh però è comodo Cambia le marce Guida allo stesso tempo Sta al telefono Fa un sacco di cose È multitasking Multitask Mult Eh Allora intanto sto sudando Che è uno schifo Pazzesco C'è proprio una roba allucinante Però comunque Spero non ci sia un ragno Perché in realtà Sono anche un po' Ragnofobico Quindi no Preferirei vedere Soltanto uno Che è un Bu Un po' strano In faccia Preferisco Preferisco Quindi posso portare Un po' indietro Così Ricominciamo Non so parlare È stato lo spavento Quindi Ci sono ragnatele Si è aperto il portellone Lei non si è cagata in mano Neanche per sbaglio Ma uscirà qualcuno Cioè ma comunque va a controllare Ma con quella in coraggio Mi sa che quest'arma Non ti basterà Allora Calme No no C'è una che piange Ma l'ha chiuso Mi piano Cos'è Sento Continuo i rumori Che Cosa è successo Oh Vola Devi coppervi Ma che Come Mamma mia Oh God Potevi farti Fare I Cosa No ragazzi Ha fatto cambio Ha buttato fuori Quella Che c'era dentro Che chiedeva aiuto E ha preso l'altra Ma chi sta guidando I'm so sorry Potevi avvertirla Cosa chiede aiuto Della serie Ha preso il suo posto Altro semaforo M'ho chiesto No ragazzi Che brutta Ma È quella di prima E la storia Si ripete all'infinito Adesso Lui la segue Poi verrà preso E lei verrà buttata È finito così Ci sono solo Dei suoni Terribili Di sottofondo Per farti capire Che Noi ci ascoltiamo Tutta la musichetta Perché è bella No Bene Ma che bei filmati Oggi Porca vacca Sono più belli Ragazzi Io vi giuro Sono sudatissimo Sono devastato Parca vacca Oh Allora Quindi Questo furgoncino Rapisce Le persone E Fa chiedere aiuto Per poi farsi seguire Torno grande Per poi farsi seguire E prendere l'altra persona In ostaggio E andare avanti così All'infinito Ma sì ma che Ansia Ma Non ti annoia Vivere così Porca vacca Brutta roba E anche questa è andata Purtroppo qua Il jump Il jump Il jump Scherce È stato Ho perso Che strano Vero Ho resistito Tre Video Ho dovuto perdere Ovviamente Al quarto Porca vacca Mi sono sbagliato Per colpa Del portellone Del furgone Ma ci rendiamo conto Allora ragazzi Allora Siamo praticamente Quasi a un'ora Di live I quattro video Sono finiti Erano questi Allora Allora Sono due le cose Oh Manteniamo questa live Di un'ora Circa E ci salutiamo qua Così abbiamo dedicato Solo Alla prova Non spaventarti Con solo l'horror Che secondo me ci sta Oppure Continuiamo Ancora per una mezz'oretta Al massimo Con fortnite Però secondo me Non ha molto senso Ecco Io fortnite Vi dico Quasi al 100% Domani uscirà un video Su fortnite Ve la spoilerò così Quindi non so se ha senso Piuttosto fortnite Lo porto Prostima settimana Con un'altra live Così dedichiamo Solo Quello Che dite Perché così almeno Dedichiamo la live Solo all'horror Che ha più senso No Ci sta Eh Solo horror Solo horror Solo horror Ok va bene Ok va bene Perché se no Non ha senso Ragazzi Sono pezzato Cioè è proprio sudatissimo Una roba Allucinante Allora Posso provare Se volete Un secondo Un secondo Un secondo perché qua È sempre Roba incredibili A vedere Se riesco a trovare Una Un altro video Ok Madonna Proprio negli occhi Provo a vedere Ragazzi Se riesco a trovare Un altro video Così Ne guardiamo un altro E possiamo rimanere così Vediamo eh Lo cerco così Al volo Ragazzi Non so Non so cosa si può trovare Se c'è qualcosa Facciamo così Dai così Almeno Allunghiamo un po' Ma rimaniamo sempre In tema horror E poi dedichiamo fortnite Per le prossime volte Proviamo Ehm A fare questa ricerca qua Prova A non Spaventarti Vediamo se c'è qualcosa Ehm Beh 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 Vediamo Per il momento Non c'è nulla Però C'è un video Di un canale Che si chiama Apriamo gli occhi Lo sto vedendo adesso Raga Non so se sentite La pubblicità Allora Posso Intanto Ringraziare Apriamo gli occhi Per questo video Il canale si chiama Apriamo gli occhi Questo è un video Che ho trovato Ed è appunto Una prova Non spaventarti Non lo so Vediamo Vediamo Se volete Possiamo Ehm Ok dai Facciamo così Intanto Metto lo schermo Ok Così potete vedere Con me E proviamo a vedere Questo video Speriamo Non lo so Ragazzi Non so Non saprei Non sapendo nulla Non so Lo facciamo partire Vediamo un po' Dai Porca Stai resistendo Ah c'è pure il tempo Benissimo Ok Va bene Ok Questo video L'avevo visto Meno Fantasmi incredibili Cioè non ho visto Questo video Ho visto questa clip Porca vacca Dobbiamo resistere Raga C'è anche il tempo Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Siamo già a livello 2 Mamma mia Fortissimo Dai Ok Va bene Ma salve Ma E Bugs Bunny Inquietantissimo Cosa fa È un ladro Non dobbiamo spaventarci Madonna se si buca Però all'improvviso Potrebbe essere un problema Ok Che fa Ma com'è possibile Sei entrato dalle Vabbè ragazzi Non facciamoci domani Stiamo resistendo Già 45 secondi Calmo Se Dovessi Spaventarmi Ho perso In pratica L'ho appena detto L'ho appena Detto Un secondo È passato Ho resistito 54 secondi No non è possibile Cioè sono una roba Schifosa Dei livelli Terribili L'ho perso Come Con un coniglio Ma dovevo immaginarmelo Che sarebbe apparso Vabbè andiamo avanti A sto punto Siamo arrivati Al secondo livello Dai Cioè diciamo Al terzo Quasi Ma porca vacca Faccio schifo Andiamo avanti Ma che cos'è questa roba Terribile Ma questa è la musica Di lavandonia Dei pokemon Perché Non l'ho capita Questa Va bene Ok Che succede Si muovono cose Immagino La sedia Prende vita Le poto Volano Che succede Non lo so Ragazzi Ma vi rendete conto Nel mondo Che cosa succede Lui Fai proprio niente Non ha visto nulla Girati Sei possedutissimo Te ne rendi Vabbè si vuole solo sedere Ah Te ne sei accorto In realtà si voleva solo sedere Il fantasma Ragazzi non vi preoccupate E comunque Ci sta E come Come mi passa Thor Eh ti stai cagando Sì ma non sbuca nessuno Vero Perché avevo questa sensazione Dai calmi Non succede nulla Non appare nessuno E ho perso Due volte Nello stesso identico video Nick Dife Un euro Grazie di cuore Nick Gentilissimo Perché L'avevo detto Ma Non è cambiato nulla Mi sono comunque Cagato in mano Sono tante Le domande Della vita Eppure Non riesco a trovare Una risposta Ho già perso A 54 secondi E ho riperso A un minuto e 52 C'è qualcosa Che non va Ragazzi Il problema È quando Sono i suoni Forte Forti Come parlo Dentro le orecchie È un casino Ogni cosa fa paura Eh potrebbe essere Un problema Allora a sto punto Andiamo avanti Che tanto voglio dire Siamo quasi alla fine Siamo arrivati Al quinto livello E tra l'altro Da quello che sto leggendo Siamo solo a livello medio Perché c'è poi anche Un terzo livello Che è quello più difficile Ma siamo a posto Mi spavento qua Andiamo avanti Dai Vediamo ragazzi No Più o meno Diciamo che non sono Proprio stato bravissimo Cos'è Salve No Questi video sono bruttissimi Quelli proprio che Arraffica Senza motivo In quei Ma madonna santa Che bello che sei Perché mai C'è uno che si Gratta gli occhi Ma cosa sta succedendo Vabbè ma questo Non ha fatto paura Io didi Grande Ma che grande Che ho fatto schifo Ho perso due volte Cosa Grande Non dovrei neanche Perdere questi video Non dovrei Allora ragazzi A sto punto Mettiamo anche Il livello difficile Perché tanto Abbiamo fatto 30 Facciamo 31 No Prendo un attimo Fiato Salutando Ciao Chiara Taranto Ciao Fexy Ti lovo troppo Saluti Le sorelle Taranto Ciao Sorelle Taranto Ciao Luca Raffael Suta Ciao Miriam Maumi Eh Non riuscirò mai a dirlo Maumidi Ho detto malissimo Sicuro Allora Ragazzi Cerco La parte 3 E vediamo un po' Sicuramente La trovo subito Perché tanto è così Vediamo Ecco appunto Livello hard Bene così Livello hard Ragazzi L'ultimo livello Sarà un macello Ciao Ciao Arianna Ho perso il nome Porca Arianna Delle Monache Bene così Ragazzi Siamo arrivati All'ultimo Livello Ce la possiamo fare Non lo so Proviamo Proviamo a vedere Ragazzi Porca vacca Porca vacca Ogni volta Sti casini Questo in teoria È l'ultimo video Di questa live Prova a non spaventarti Ragazzi Ho perso In più occasioni Purtroppo Ma non avevo dubbi Vediamo se l'ultima Riesco a non spaventarmi Dai E che cavolo È terribile Sta situazione Vediamo Ragazzi Vediamo Un po' L'ultimo Raga L'ultimo 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 No C'è chi dice No Non metterlo Ho paura Vi capisco Allora Giulio Dorocchi No Dodorico Un euro Grazie di cuore Giulio Ho avuto un Tipo un Lug Non riuscivo a dire il tuo nome Perdonami Grazie mille per il tuo euro Giulio Gentilissimo C'è chi dice No Non metterlo Ma cosa Dai proviamo ragazzi A sto punto Ci siamo cagati in mano Per tutto il tempo Cagiamoci in mano C'è No È l'ultimo Dura esattamente Quattro minuti Ce la possiamo fare Quattro minuti E poi ci salutiamo ragazzi Così Ci cacchiamo per bene Boh Ma siamo a posto Dai Dai ragazzi Forza Forza e coraggio Dai forza e coraggio Dai forza e coraggio Allora Poiché poi hard Magari non vuol dire Che è più difficile Magari Semplicemente In base alle persone Dai ragazzi Con i pollicioni in su Dai che non siamo neanche A cinquemila ragazzi Mi sono cagato in mano Eh Dai quei pollicioni Lo faccio partire ragazzi Parte già così proprio Va bene È iniziato ragazzi Siamo in una stanza C'è sempre la solita musica Ci sta Orca vacca Quella stanza Nasconde qualcosa di brutto Secondo me Oh Le luci Sono fulminatissime Quindi fa Scherzi strani Che cosa Perché c'è Una fle Cosa Vabbè Ha apparso un tizio a caso Va bene Per il momento Ok No no Non ti prego Basta Chiudi la porta Fai pinta di nulla Ma è eccesso quello Sta cagando Ha bisogno di Luce Ecco che Vuole intimità Lo capisco Dice Non disturbate Va bene Lo conosco questo Raga Arriva il jumpscare Il bambino fa la faccia strana E urla Preparatevi Jumpscare Bambino strano Lo conosco Meno male Che lo conoscevo Sennò avrei perso Di nuovo Terzo livello Ragazzi Ard niente Il suo fortissimo Ma che faccia c'ha Ma che Ma è una signora Anziana Che ha degli occhi Strani E senza denti Che fa gesti Perché mai Ma è demoniatissima Ragazzi Proprio A dei livelli Pazzeschi Fa gesti Allora vediamo Madonna santa Che brutta roba Ma che forse sono Dai Allora dai Dai ragazzi Ce la stiamo facendo Stiamo resistendo Ragazzi Calmi ragazzi E' brutta Oh no santa Che gnocca La nonnina No ragazzi Tranquilli Ci sono io Che mi difendo Allora potrebbe essere Un casino Sì ma basta Ma che fa Ma sta vendendo Il pane Ma ride E' contentissima Ma cosa è Gio Batti le mani Ehi Ma cosa Ehi Batti le mani Scacchia le dita Umore alto Tutta la vita Anche questo Lo conosco T'ho fattuto Ragazzi Adesso arriva Un jumpscare Questi macchina Si piazzano Ecco c'è una Che all'improvviso Gli appare davanti Arriva il jumpscare Ragazzi Preparatevi Non vi spaventate Non vi fatti Mi dispiace Sto troppo preparato Per te Quinto livello Cos'è Il sarpentese Di Harry Potter No i suoni Brutti Disturbanti Mamma mia Manco io Quando suono il flauto Sì vabbè Ma che brutta roba Però eh Ma che faccia C'ha Che video sono E' fastidioso Nelle orecchie Però C'è non capisco Tre minuti e sedici Ragazzi siamo fortissimi E stavolta Sì Stavolta Ho vinto Porca vacca Devo dire Che il livello Medio Era decisamente Più spaventoso Di quello hard Ve l'avevo detto C'è la cosa Più spaventosa Era una vecchietta Che voleva vendere Il pane O forse voleva giocare A brisco Con qualcuno Solo che aveva Gli occhi strani E nessuno voleva giocare Con lei Capito no? Me l'avevo detto Ce l'abbiamo fatta ragazzi Abbiamo Fatto Roba incredibile Mi sono spaventato Non è andata Sempre benissimo Però poteva andare Anche peggio E di solito Prendo degli infarti Che l'orologio Mi dice Vai all'ospedale In fretta Siamo comunque A 110 battiti Ridendo e scherzando Però ce l'abbiamo fatta Dai Basta Basta Che però veramente Sennò Succedono cose Ragazzi Almeno 5000 like Dai E poi Che pollicioni Dai È gratis Siamo a 4855 Dai Dai ragazzi Che mi Dai Dai Che lo so Che qualcuno di voi Ancora non l'ha messo E dai Che pollicioni Ragazzi Dai E forza No ragazzi Bom Per oggi Possiamo concludere qua Abbiamo dedicato Un'ora A 10 Di live Soltanto All'horror Così Per fare la prova Non spaventarti La prossima volta Facciamo fortnite Va bene E nient'altro Ovviamente Cerchiamo di Oh Bene così ragazzi Dai che siamo a 5000 Mi piace quasi Dai A posto Allora Saluto ancora A qualcuno E poi ragazzi Ci salutiamo Così vi lascio Anche fare le vostre cose Che sono praticamente Le nove E Scusa Giustamente qualcuno Dovrà anche fare altro Magari C'è chi ancora Non ha mangiato Tipo me Allora ragazzi Intanto vi ricordo Che Lunedì Mercoledì E venerdì Video sul canale Quasi Il 100% Per cui Non mancate Mettete già La campanella Attivate Promemoria Tutto Molto probabilmente Domani uscirà Un video di Fortnite Non mancate Perché sono successe Delle cose incredibili Fa scassare Roba raga Vi dico solo questo Preparatevi E niente Adesso saluto Ciao Elisa 1.00 Ciao Stefano Schiappa Ciao Martina Agorastu Mamma mia Se le ho sbagliato Sicuro Poi vediamo Un po' Ciao Johnny Jones Jonas Dov' Eh Ciao Mattia Gabriele Lucian Poi vediamo Ciao Ciao Luna Nardini Ciao Monica Cicala Poi Ciao Crazy Girl Ciao Salvo Red E Boom Dai Per oggi Boom Ragazzi Siamo stati un'oretta insieme Ci stava Secondo me ci poteva stare Almeno siamo stati un pochino insieme Ci siamo divertiti Io qualche infartino l'ho preso Ma poteva andare peggio Dai Spero Che vi sia piaciuto Spero Vi abbia fatto piacere stare un pochino insieme E cagarci un pochino tutti quanti insieme Dai Se volete fare le clip con i miei spaventi Fate pure che tanto Ma soprattutto fate la clip della mia traduzione meravigliosa in inglese Perché c'è vale tantissimo Eh Allora Ciao Fabrizio Dragoni Ciao Only Roxy Allora ragazzi dai Allora ci vediamo In settimana Con altri video Non mancate mi raccomando Roba incredibile Domenica prossima Quasi sicuramente ci sarà un'altra live però su Fortnite Questa volta Se vi va E niente Ciao Giulio No L'ho già letto prima Perdonami Giulio Niente Cavole Mi era apparso a caso Niente Poi abbiamo anche Ciao Gameplay Ciao Apocalfra Apocalfra Bellissimo Sì Elisa Bogoni Ho detto bene Comunque sì Abbiamo finito per oggi Siamo stati qua a guardare qualche video horror Ci siamo spaventati un pochino Sì dai Quindi sì per oggi abbiamo concluso Niente ragazzi Spero Vi siate divertiti Solite cose Spero vi abbia fatto piacere Stare un po' in mia compagnia E niente dai Allora ci vediamo domani con un nuovo video sul canale Mi raccomando Non mancate Non me ne pentirete E in settimana con altri Domenica prossima Altra live Comunque ci sentiamo Anche sugli altri social Così vi tengo aggiornati Se non mi seguite Andatemi a seguire su Instagram Fancy Scritto come qua su YouTube Niente ragazzi Allora io vi mando Un bacio giganterrimo Gigantesco Un abbraccio virtuale Vi voglio tanto bene ragazzi Davvero Grazie per essere rimasti In mia compagnia Grazie per tutto quanto Siete sempre fantastici Vi faccio adesso gli auguri Buon Natale Ma tanto Cioè prima di Natale Comunque Faccio storie Robbe sui video Cose Quindi non vi preoccupate Però Tanti auguri ragazzi Passiamo bene queste vacanze Dopo sto periodo Tutto il cazzo Oh Niente ragazzi dai Allora Un bacio grande a tutti Grazie 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 di cuore per ogni cosa Che fate Se volete Potete anche condividere la live Con i vostri amici Non vi preoccupate E rimarrà Sul canale Potete andarla a guardare Quando volete Va bene ragazzi Allora Dai saluto ancora Ciao Greta Con l'accanto di Manuela Così Auguri a tutti ragazzi Ma tanto Non vi preoccupate Che ci sentiamo Prima di tutto Va bene Grazie ancora ragazzi Vi voglio bene Un bacio grande Un bacio grande Chiudo perché Se no veramente Fosse per me Non sto scherzando Non chiuderei mai Ve lo dico Non chiuderei mai una live Arca vacca Mi diverto un sacco A stare con voi Vabbè Un bacio raga Mi raccomando Non mancate In settimana Con nuovi video Buonanotte Buon appetito In caso Non aveste ancora mangiato E ci vediamo I prossimi giorni Con un nuovo video Sul canale Grazie di cuore a tutti ragazzi Vi voglio bene Un bacio Ciao ragazzi